Salve a tutti, il duello tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi al Gran Premio di San Marino Imola 1982 è consegnato alla storia senza una composizione pacifica. Segnò la fine dei rapporti tra i due ferraristi e fece da preludio alla tragedia di Zolder. Quello che successe va però inquadrato in un contesto più ampio e complesso che vedremo alla fine. I fatti, 14 macchine in pista per la lotta di potere tra la federazione e l'associazione costruttori, le due Renault in prima fila seguite dalla Ferrari con Gilles nettamente più veloce in qualifica di Pironi, il francese alla seconda stagione a Maranello doveva imporsi, l'anno prima Villeneuve aveva aumentato il suo peso con le strepitose vittorie di Giarama e Monte Carlo con una monoposto non al top. Ritrate entrambe le Renault per la Ferrari la strada è spianata, al muretto compara il famoso cartello slow, Gilles alza il piede, c'è il consumo di benzina da tenere sotto controllo, Didier no e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi vince. Ecco la sua versione a caldo al microfono Rai di Ezio Germiani. Prestabiliti ovviamente, vinca il migliore, questa era la regola probabilmente. Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna, però per una volta penso che una vittoria per me non è ingiustissima. Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no? No, slow vuol dire slow, mantenere le posizioni vuol dire mantenere le posizioni, sono due posizioni diversi. Villev non ci sta, sentite il meccanico Ferrari Pietro Corradini. Niente, lo ricordo arrabbiato perché era stato scippato di una vittoria meritata a Imola, da uno che credeva amico. E lui rimase molto male perché in quell'occasione io portai le due bottiglie per dissentare i due piloti, Didier e Gilles, e quando mi ha incrociato mi ha detto non voglio bere e hai un pilota, ha detto parole chiare, come ha detto lui, un pilota di merda e da questo momento è la guerra. Il cartello slow è il pomo della discordia, Forghieri assente quella domenica, dirà era ambiguo, ci fossi stato io avrei scritto chiaro primo Gilles secondo Pironi, di diverso avviso l'allora direttore sportivo Marco Piccinini, secondo il quale Pironi non trasgredì. Villev, sostenuto da Schechter, non incontra subito Enzo Ferrari per un chiarimento, ma il Drake glissa, rimarca la vittoria comunque Ferrari e non ritiene giusto rimproverare Pironi. Il canadese rilascia allora un'intervista a Marcello Sabatini di Autosprint, da quando sono in Ferrari afferma Piccinini ha sempre detto di evitare queste battaglie, è quello che ho fatto con Schechter per esempio a Monza, poche ore prima di partire per Zorder un ultimo incontro con Enzo Ferrari, i due piloti e Piccinini, Gilles ne esce sconfitto su tutta la linea per quanto Pironi si dica disposto a chiedergli anche scusa, il Drake non condanna però l'accaduto e anzi il canadese ne esce con la netta convinzione di essere stato liquidato, lo racconta Tullio Abbate, industriale della motonautica che aveva accompagnato l'amico Gilles, in realtà le strade di Villeneuve della Ferrari erano già divergenti, l'anno prima il canadese aveva avuto una trattativa con la McLaren e ricevuto una serie offerta dalla Williams, inoltre come confermato dalla moglie Joanne, Gilles stava manovrando per fondare un suo team, con base nel sud della Francia e Gerard Ducarouge come progettista, munifici sponsor erano pronti a sostenere l'iniziativa, a Maranello sapevano e a sua volta Enzo Ferrari aveva già deciso di fare meno di lui, il Drake lo riteneva ormai troppo imborghesito e non gradiva l'esaltata attenzione che la stampa riservava al funammolico pilota personaggio che metteva in secondo piano la macchina, in quel 1982 dunque si era il triste epilogo già scritto di una storia cominciata nel 1977 e resa drammatica l'8 maggio. Grazie per l'attenzione, lascia un like se il video ti è piaciuto e sostieni il canale con la tua iscrizione gratuita, cliccando anche sulla campanella così sarai sempre informato nei prossimi video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!